il luogo e il viaggio laddove in sopralluogo c'è sempre qualche cosa un po' di predatorio cioè vado, guardo quanto basta, posso anche non andare, datemi qualche foto ho già un'idea, un concetto di quello che vado a fare quindi c'è una prevalenza dell'autore e un po' una presunzione di poter incorre diciamo al proprio, una propria idea che poi c'è autoniale e in certi contesti, in questi in particolare si ha l'impressione che devi entrare un po' ai piedi devi anche, ma ci vuole molto tempo devi spogliare un po' di quello che ti lasci alle spalle devi vedere il Mediterraneo da sud, cioè non da nord come è stato di solito visto per poter intanto capirlo e poi magari agire in modo diciamo consono e quindi il World Box che tutti avete ridisegnato è la scatola di scena, i piaggiatori per eccellenza la scatola che metaforicamente li portava presso anzi, concretamente li portava presso e li attiva con felici, piccoli oggetti, piume, infermi, cose, eccetera che li tenevano significativi nel suo viaggio di preparazione allora io dico, dicevo, appunto, voglio dire in questi contesti, ma in genere non si deve portare presso questa scatola la propria scatola dentro cui depositare le cose economicamente, ovviamente le cose veramente importanti che preghi e che... Lei ci ha parlato di come ci siano culture in cui il concetto di patrimonio è inosserente ci ha fatto l'esempio di una cultura in cui il patrimonio è un ingombro altre in cui va preservato così com'è e la nostra domanda era un po' anche curiosità come si può comportare l'architetto nel momento in cui entra a contatto con queste cose? Sì, è una buona domanda questo, è vero perché uno arriva in questi contesti pensando anche a questa esperienza la propria cultura, diciamo, supponendo che quella cultura sia appena si è cominciata quindi arrivando con un atteggiamento, se vogliamo, paternalistico che si porta alla scienza, da dove? Ma forse, secondo me, un contenuto progetto è quello di favorire la conoscenza quindi favorire la conoscenza di bene, di, diciamo così quindi che sono trasportati, non più detti, non più detti, quindi può fare questo in qualche modo, non può essere un punto l'altro è quello di fare in modo che questi beni non ti dentino subito il progetto di speculazione del turismo superficiale, del turismo commerciale questo è un altro elemento cioè sottrarre la nozione di patrimonio sia al processo di musealizzazione insomma comunque congelata, diciamo, nel museo sia nello stesso tempo soggetta ad essere mercificata ecco, perché questo è un altro... Dunque, avere un altro rischio una lettura altra Sì, voglio dire, non favorire tutti quei processi che, voglio dire, mercificano il patrimonio creano le condizioni perché siano, diciamo, così in qualche modo consumati rapidamente ma arrivare a questo mettendo in moto dei processi in cui la comunità che in qualche modo appartiene a quella storia possa trarne benefici, possa in qualche modo ricostruire il processo di conoscenza ecco, forse questo è il tema quindi inserirsi anche in un obiettivo di valorizzazione turistica ma deve essere sempre in secondo delle modalità, diciamo, di apprendimento lento, sedimentato dunque diventa quasi una sorta di scatola di viaggio per entrambe le piutture mi ha molto affascinato questo concetto di avere una statola di viaggio dunque togliersi i preconcetti e avere questa scatola dunque anche per chi non viaggia per la cultura che ospita il bene riesce ad avere anche un problema sì, infatti, sono processi di conoscenza reciproca non c'è dubbio, io ogni volta che sono andata giù quando mi sono trovata in Libia o quando mi sono trovata in Giordania in Giordania, ripeto, eravamo nella zona nord della Giordania quindi quella poco conosciuta quella fuori dei circuiti turistici che investono Petra, Adirum che sono assaltate dei turisti di grandissimo pace non c'è dubbio però ero a nord, quindi nella zona meno conosciuta quella dei castelli quella che è segnata dalle tracce delle carovane ma anche dei romani che passavano di là da Udma al Gimal per andare verso la Siria quindi quella parte lì è poco conosciuta è poco conosciuta dagli stessi giordani gli stessi giordani è poco conosciuta e poco valorizzata quindi è stato un processo di conoscenza ovviamente reciproco io sono andata lì e sono andata in una condizione di apprendimento oltre che in essa disposizione di competenza